Alexa, la vittoria del carattere, 2-1 in vantaggio sotto 18-23 nel 4-7, avete fatto una rimonta straordinaria. Tutti i team hanno un buon temperament, quindi hai fatto un buon lavoro. Quale era il tuo sentimento nel campo? Sì, il tutto il gioco abbiamo fatto davvero bene, con i due team, è stato un gioco davvero bello. E' davvero bello di guardare, dopo tutto. Abbiamo messo il nostro cuore sul campo e abbiamo dato il nostro miglior. Voglio ringraziare tutte le persone che venivano per supportare noi, perché è stata una delle più grandi parti in cui abbiamo giocato così. Abbiamo avuto tanta energia. Questo è tutto. In effetti tutta la partita è stata giocata molto bene da entrambe le squadre. Ha contato molto il fattore emozionale in questa partita e questo anche ha determinato il termine della partita, il risultato. Loro hanno messo tutto quello che potevano mettere, proprio perché volevano prendere a tutti i costi questo risultato e voglio ringraziare in particolare anche il pubblico che ha dato una grossa mano. Finale di quarto set con te in campo che sei del 2000, Tommaso del 2001 e la gioventù al potere in questo caso. Quindi tutti i nostri giocatori erano in campo oggi. Qual è la tua sensazione in particolare? Sì, i nostri ragazzi assicurano sempre che non sentiamo molto pressione e ci aiutano molto con questo. Quindi non è così difficile per noi perché loro, ovviamente. Abbiamo avuto una sensazione davvero buona sensazione. E siamo pronti per dare tutti noi in questo. E siamo felici di aver scenduto così. In il miglior modo possibile. Quindi c'è una buona atmosfera nella squadra? Sì, sì. C'è che i giovani non sentono la pressione in questa squadra, sono supportati da tutti gli altri giocatori e questo fa sì che loro possano dare del loro meglio quando sono chiamati a giocare. Per la nostra classifica e la nostra stagione che importanza ha questa vittoria? Sì, credo che i tre punti erano davvero importanti in questo gioco. È sempre meglio i tre dei due, ovviamente. Sono tre punti molto importanti e quindi spero di poter continuare con questo cammino. Grazie mille. Grazie mille.